Lisbona ha accolto tre regine dei mari, Queen Mary 2, Queen Elizabeth e Queen Victoria, le più grandi navi da crociera al mondo, ormeggiate al porto cittadino insieme ad altre tre imbarcazioni poco più piccole. Una boccata d'ossigeno per l'economia locale e 18.000 turisti hanno speso in poche ore un milione di euro.